Rosario Marrone, padre della cantante Salentina Emma Marrone, è morto improvvisamente all'età di 66 anni. Lo riferisce il comune di Aradeo Lecce, dove la famiglia Marrone risiede. Ricordiamo Rosario per il suo impegno nella nostra comunità, come politico, ex amministratore e primo cittadino del nostro comune. Un uomo eclettico, disponibile, forte e schietto che ricorderemo sempre con grande affetto, scrive il sindaco del paese, Giovanni Mauro, facendosi portavoce dell'intera amministrazione comunale. La cantante ha voluto ricordare il padre sul suo profilo Instagram, pubblicando una foto di Rosario Marrone che suona la chitarra, accompagnato dal messaggio firmato come La tua chicca. Nella serata di ieri è arrivata la notizia della morte di Rosario Marrone, tramite un post su Instagram condiviso dal comune di Aradeo, paese in provincia di Lecce di cui la famiglia era originaria. Di professione infermiere, appassionato di chitarra, Rosario aveva però vissuto anche l'impegno politico e amministrativo nella comunità del paese. Restano al momento ignote le cause della scomparsa, che sembra essere avvenuta all'improvviso e che sta raccogliendo il cordoglio di migliaia di utenti via Instagram. Oltre alla gente comune, anche gli amici più stretti di Emma. Arrivano infatti in calce al post le condoglianze di Marco Bocci, quelle di Stefano De Martino, che scrive Vecchio Lupo, il soprannome dell'uomo, entrambi ex fidanzati dell'artista trentottenne. Rosario, Vecchio Lupo. Ho il cuore in mille pezzi, aggiunge Antonino Spadaccino, anche lui ex cantante di Amici come Emma. E ancora Elena Damario e Veronica Peparini, volti storici del talent show di Canale 5 che ha lanciato Emma nel mondo dello spettacolo e verso una carriera in cui papà Rosario è sempre stato di supporto. Un pensiero di conforto e condoglianze alla famiglia in lutto.